una vita sola non spiega nulla a cura di vb rosario con conta preghiere rosario materializzato nella casa di chi scrive dalla guida fisica enzo attraverso domenico pollice lo strumento del cenacolo umanità in movimento la croce è stata lasciata in dono alla casa la data dell'apporto è andata perduta e di molto antecedente alla lunga pausa di questa medianità che dopo il trapasso di elena la moglie di domenico ha ripreso la sua attività negli ultimi mesi del 2017